Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Nella scorsa live abbiamo aperto una cosa come 12 team e vi devo dire che penso case migliore non mi poteva capitare. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto dei team. Cioè, ce l'hanno ancora, quindi secondo me una piccola sbustatina così anche per ide se potrebbe fa. Quindi se volete supportarmi e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jaxtor, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, sia di One Piece che di Yugi. Quindi se volete supportarmi anche lì trovate il referral link e il codice sconto sempre qua sotto. In più se volete liberarvi carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece e l'Orkana trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è roba interessante se ne può parlare. Detto questo, passiamo all'apertura. Allora, bene, detto questo andiamoci a vedere cosa possiamo trovare all'interno dei team di costoso ovviamente, perché sono le carte che costano e ci interessano. SP! SP! Non mi serve! Non ce l'ho! Non ce l'ho! Non ce l'ho, ma se me esce io non disdegno! Poi, Trust lo comprate, però non disdegno perché venderne una di queste significa rientrare di una delle altre. Minchia è pure in salita. In inglese costa 18 euro. Poi falò interessante, ricercata interessante, in set interessante. Comunque della roba che costa c'è. Anche Tridente non sarebbe male. Ecco, Typhoon se mi esce sono contento, che mi serve. Beh, Ray Jackie l'ho trovato, Spolverino mi serve. Andiamo con l'opening. Poi può tornare il profumo di Egitto? Però qua non c'è Exodia, però c'è la Maga Nera. L'odore dei Fregna si sente. Full, Sainet, Synchro World, Lilla Rap, Stand Up Centurion. Ok. Oh, Secret Normale. Mi sento male. Bella dai, sì! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì per una volta è vinto sarà l'unica carta coscosa del team bravo ora smettila di di esultare per una quarter io temo di aver capito no c'è il banquish rock lì quello che devono lì sarà l'unica carta coscosa del team bravo ma che me frega ragazzi sono curato 5 euro di carta carta unchained carta urs artico bls wow oh è lui è un posto normale un drago bianco no porca troia oggi me la sento me la sento bene non me la sento come come vedete me la sento proprio potente oggi posso fare qualsiasi cosa no non ne ho trovate una sono ci sono dei case proprio così a quello che so adesso ne trovo una a caso dark corridor buono un altro pezzo o è il drago siiii andiamo no ragazzi oggi sto facendo proprio schifo si sto facendo proprio schifo ieri il mio socio Gianmarco ha trovato due seping due pacchetti non credo pensavo rollback cosa può essere sicurità vabbè fai cagare antilon million branded che succede vecchio lo scappa allora una secret rare così vabbè dai che buona no dai ragazzi ci sono due terreno è sempre quella sbagliata è impossibile perché l'altra ah sì io lo ricalcos avrei apprezzato quella sinceramente ah no sono tre terreno allora quella è l'altra oh ah no aspetta la continua quella lì di yubel ah ok sì abbiamo un sincro bello vabbè ci sta è onesto ci sta dai 90 centesimi probabilmente non interessa alla fine è bello ci sta ce l'ho ce l'ho starlight vero però ok ce l'hai starlight vero si sbustato trascendosaurus api ok battle royale contain ve dirò ragazzi forse meglio 20 euro di carta no ragazzi no ragazzi non ha senso quest'opening non ha senso gold pride infernoid ecco è il token vabbè ci sta tanto questo colore può essere solo questo l'hai trovato cosa può essere ma lo speedroid ok bello bello figo a me piace mi piaceva giocare questa carta di merda si abbina bene il cassonetto l'indifferenziato no dai ci sta vabbè ragazzi non è uscita ancora la maganiera però è uscita della roba interessante rescue ace manadium earthbound a carta micanko ok no target super poli ok per gli usi paghi 56 lauree no devo prendere solo la seconda ora come se la tira dopo sto spacchettamento me la danno con 110 lode a un orem per lo sboosting labyrinth suite roommate o fiazart ok ci sta a oscurità è un altro pezzo va bene ne abbiamo due almeno non sono gli stessi però mi sa che gli ama questo giro e gli ama lo sapevo ho visto oscurità però è veramente bella horned sweet dream stardust quem quem dai qualcosa però comunque non è male e lo ricalco c'è uscito vabbè è già persa la scommessa però una wanted pulito vabbè gazzelle però intanto come coglioni ti sta andando davvero bene cappellino di paglietta allora qua dentro altra carta da 10 euro dai su per me c'è causa angel là dentro che ti dirò non sarebbe male trap trick a la morganiera pensavo back to back e poi cos'è tributo torrenziale carino un altro scapegot va bene non c'era la carta 15 euro però te dirò questa la volevo questa la volevo migliori dei team degli anni precedenti ma allora a livello di carte se vai sul generale non ti chissi sul fatto è o l'onesto che schifo quarter comunque c'è tanta roba simpatica tanta roba molto interessante quindi ci sta carta orsartico tipo la quindicesima night teia buono queste le volevo le devo prendere è una carta da 5 euro tipo link quarter a di nuovo borrelod no ragno link ci sta carino altrimenti era arrivato a cifra foglia un penno certo rage pod cassimolar no parallel c'è un secondo godo me manca il terzo adesso comunque hanno fatto un sushi ultra e non mi è ancora uscito green jar l'irla rap noir stay your soul aia stiamo male dai dai un giallone bello no green gadget un euro dai vediamo l'ultima mi usciranno tutti i gadget questo è praticamente il team di colosse ragazzi dai sento l'odore del topa ragazzi sta qua dentro new world couple tari rescue ace heartbound ve l'ho detto ragazzi sentivo l'odore del egitto pankra va bene va bene va bene c'era puzza di egitto ok però ho detto che nel team c'era una sopa vediamo superivi sneksi no no ma assolutamente mi posso lamentare capiamo no greve full armor ed dai sulla maga per favore no è fusione cazzo minciaba alternativa art chi aveva detto che yubel era considerato topa o meno dipende ragazzi per il 50% tanto è metà metà uomo metà donna yubel rinosa dai credo nel cuore di carte shell branded banni giant xyz carta melfi carta rescue ace cazzo per un secondo visto mostro dai dimmi falò oh dai e andiamo all'ultimo pack last pack of destiny guys this in opening it's been good so far can we end with a good card bashing trap hole nooo però è un no è un no ok dai concludiamo con una bella carta è bella dai rimane comunque una bella carta si ragazzi posso ritenermi soddisfatto penso case migliore di così non ci poteva essere fatemi ovviamente sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto e se lo avete sbustato o meno o se per caso recupererete detto questo ovviamente state medici e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti